Ciao ragazzi e bentornati all'interno del mio canale youtube e come sempre benvenuti all'interno di questo nuovo video all'interno di questo video voglio mostrarvi come abbiamo portato un conto da soli 1000 euro di deposito a 3078 euro punto 60 centesimi in meno di due mesi e mezzo utilizzando semplicemente un software di trading automatico quindi senza muovere un dito in modo totalmente passivo e senza mai mettere le mani su metatrader 4 prima però di andare nel vivo di questo video e spiegarti come funziona il tutto ti invito a si iscriviti al canale cliccare sulla campanellina per avere tutti gli aggiornamenti e seguimi fino alla fine di questo video perché ho due bonus interessanti che ti permetteranno di provare questo software in modo totalmente gratuito sia con un conto demo che con un conto reale prima di farti vedere un po' la situazione all'interno di metatrader 4 e spiegarti un po' tutte le specifiche di questo software ti dico che questo software si chiama oneplus ultra ed è stato progettato e sviluppato da trading plus fx ovvero un'azienda che si occupa di ricerca e sviluppo di expert advisor per fare trading automatico sul forex e che come unico obiettivo ha quello di aiutare le persone che vogliono fare trading e che non hanno competenze a guadagnare con il trading automatico adesso sicuramente voi starete pensando tutte le aziende dicono che con i propri servizi e i propri prodotti vogliono aiutare i clienti ma in gran parte dei casi non è così quindi vi dico velocemente che io sono il co-founder di trading plus fx e la maggior parte degli introiti che abbiamo con questo tipo di business deriva dagli abbonamenti mensili ciò vuol dire che se i nostri clienti perdono soldi o non guadagnano non ci pagano gli abbonamenti quindi vi assicuro ragazzi che nel nostro più grande interesse andare a mettere al mercato dei prodotti o dei servizi che funzionano e che aiutano veramente i clienti questo video è stato fatto soprattutto per andare a distruggere un po' tutte quelle che sono le credenze limitanti sui software di trading automatico perché lì fuori tantissime persone pensano che fare trading automatico significa essere poco profittevoli significa avere il 5% mensile di guadagno o nel peggioro dei casi bruciare i conti trading e da una parte sono anche d'accordo con voi perché lì fuori ci sono veramente tantissime persone e tantissime aziende che creano dei software così improvvisati magari hanno studiato un po' di programmazione MQL4 mettono dei software a mercato magari guadagnano le commissioni dei broker e poi vi mandano a quel paese questo tipo di software invece è stato progettato con tutta una serie di criteri che permettono appunto di andare a recuperare tutte le posizioni che vengono aperte e ci sono implementate più di una strategia quindi rimani con me perché adesso vediamo un po' quali sono le specifiche e alla fine ti dirò come accedere ad uno di questi conti per andare a controllare lo storico di quello che è il funzionamento di questi software e provarlo sia con un conto demo o con un conto reale in modo totalmente gratuito allora andiamo all'interno di MetaTrader 4 e come puoi vedere abbiamo un saldo di 3078 euro 3078 euro che chiaramente se andiamo sullo storico operazioni possiamo notare che abbiamo un profitto di 2078 euro quando è partito questo software come vedi qua abbiamo deposito 1000 euro e questo software è partito praticamente il 12 di dicembre 2022 ad oggi siamo l'1 marzo 2023 e abbiamo generato 2078 euro vi dico velocemente che questi sono i risultati con il software in modalità soft in quanto è possibile con un capitale più alto andare ad aumentare quelli che sono i lottaggi e chiaramente guadagnare molti più soldi di quelli che puoi guadagnare con un deposito da 1000 euro però se stai partendo da zero hai solo 1000 euro da investire per speculare nei mercati finanziari sappi che pian piano puoi andare ad implementare quelli che sono i lottaggi in base al tuo capitale noi questo conto lo teniamo sempre a 001 di partenza quindi al minimo delle sue potenzialità perché lo diamo anche come conto in prova ai clienti che ce lo richiedono per capire come funziona e come lavora qual è l'operatività di questo software tra l'altro abbiamo anche un MyFXbook che puoi richiedere una volta che avrai chiesto l'accesso al conto demo di questo software e andarti a vedere un po' tutte quelle che sono le operazioni, il drop down e tutto quello che serve ora vorrei farvi una panoramica velocissima di quello che è il motivo per cui questo software funziona così bene e perché è un software affidabile a differenza della maggior parte dei software che trovate lì fuori e ti dico velocemente che questo software è stato progettato con tre strategie diverse tre strategie diverse e delle protezioni quali sono queste strategie che sono state implementate? sono la strategia di scalping che chiaramente ti permette di lavorare anche su dei piccolissimi movimenti di mercato e se sai un po' di cosa si parla e se conosci un po' il trading sai che cos'è lo scalping è stato progettato con una strategia di martingala e non il classico martingala 2.0 che vai sempre a raddoppio adesso ne parliamo che ti servirà per andare a fare i recuperi in caso il prezzo si sposta più del dovuto e con una strategia di hedging cos'è l'edging? semplicemente sono delle posizioni che aiutano il software a non andare troppo in drawdown non sto qui a spiegarti la strategia di hedging ma più o meno quello quindi delle posizioni controbilanciate che appunto se da una parte stai perdendo stai andando in drawdown dall'altra comunque stai incassando e poi ci sono delle posizioni di recupero vi dico che non è per niente facile spiegarvi la parte strategica tecnica che c'è all'interno del software però così funziona ok quindi all'interno di questo software abbiamo tre strategie strategia di scalping, strategia di hedging e strategia di martingala per quanto riguarda il martingala il martingala può essere modificato a proprio piacimento in base al proprio capitale e in base al proprio profilo di rischio quindi noi solitamente partiamo con un martingala 1.5 e poi chiaramente si può aumentare a 1.7, 2.0 e così via a cosa vi servirà questa cosa? sicuramente vi servirà quando si va ad impostare l'operatività del martingala a decidere quando aprirà le prossime posizioni e di quanto aprirà le prossime posizioni è chiaro che più il martingala è alto più ci esponiamo al rischio e più possiamo guadagnare quindi abbiamo diverse modalità diciamo che abbiamo la modalità soft la modalità sprint e la modalità ultra che poi chiaramente ti permette di fare più profitti la cosa più interessante di questo software e secondo me l'implementazione più importante che abbiamo fatto all'interno di questo software è un software esterno che ti permette di far bloccare l'expert advisor ogni qualvolta che ci sono delle notizie che possono appunto portare ad una elevata volatilità nei mercati finanziari se stai partendo da zero semplicemente ti dico che la maggior parte delle volte che c'è volatilità nei mercati finanziari è dovuta dalle news dalle notizie che chiaramente troverai anche all'interno del calendario economico ora la maggior parte dei software lavorano con una singola strategia il problema della singola strategia te lo faccio capire molto brevemente è che se lavoriamo per esempio con un software che fa scalping e lavora per esempio su questa fascia qui quindi apre delle posizioni su questa fascia e poi rimane in attesa di toccare il take profit e magari non ha neanche impostato uno stop loss e il prezzo si sposta di 400-500 pips durante la giornata durante i giorni eccetera difficilmente riuscirai a recuperare quindi ti rimangono quelle operazioni aperte in attesa che il prezzo ritorni in quella direzione lì in questo modo invece noi abbiamo la possibilità di far aprire delle posizioni chiaramente in modo automatico che ti vanno a recuperare quelle che sono le posizioni di scalping che il software ha aperto altra cosa secondo me molto molto importante da tenere in considerazione appunto è che la maggior parte dei software che trovate lì fuori non hanno le protezioni non avendo le protezioni quando arriva una notizia e ti fai il candelone della madonna con 2000 pips di botto è chiaro che i software soffrono un pochino e si vanno poi a bruciare i conti soprattutto per software che lavorano solo esclusivamente in modalità martingala 2.0 quindi questo è un po' quello che volevo farvi vedere che volevo spiegarvi all'interno di questo video come ti dicevo all'inizio se vuoi provare uno di questi software in modo totalmente gratuito con un conto demo o con un conto reale ti basta andare in descrizione troverai il link del mio canale telegram dove ti consiglio sicuramente di iscriverti per avere tutti gli aggiornamenti per sapere quando ci sono le promozioni per sapere quando sono delle nuove opportunità di guadagno online e iscrivendoti al mio canale telegram troverai anche il contatto mio o di un membro del mio team che ti darà appunto le password e gli accessi a quelli che sono dei conti di prova per testare quello che è il software capire l'operatività il drop down e tutto quello che c'è da sapere prima di acquistare un software di trading inoltre avrai regalo un ebook completamente gratuito sul forex di circa un centinaio di pagine che se stai partendo da zero sicuramente ti aiuterà a capire che cos'è il forex come funziona e soprattutto perché consigliamo l'utilizzo degli expert advisor piuttosto che il trading discrezionale quindi andiamo a vedere un po' i pro e i contro e ti puoi fare un'idea di quello che realmente stai andando a fare o comunque ti fai un'idea di quello che sono appunto i software di trading quanto si può guadagnare e quali sono appunto i risultati che puoi ottenere detto questo ragazzi per questo video è praticamente tutto era solo un video per farvi vedere un po' questo software di trading le sue potenzialità vi porterò all'interno di questo canale tanti altri video su come si installano gli expert advisor su come su paragoni fatti tra questi software e software che si trovano lì fuori software crypto e tutte quelle cose lì che trovate in giro che la maggior parte sono aziende scam e quindi iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao